buongiorno cazugno cazugno amareggiato ogni mattina amareggiato devo fare un appello ai monopattinisti a così si dice i monopattinisti vabbè comunque ormai sappiamo tutti che le nostre città sono invase dai monopattini elettrici dalle biciclette elettriche dai motorini elettrici dai macchine elettrici allora ci stiamo modernizzando certo non inguiniamo tutto bello fantastico però io rischio tutti i giorni di ammazzarne tra i quattro di monopattinisti certo perché gli sembra che loro sono in un mondo a parte gli sembra che loro e diciamo per loro i segnali non valgono segnali d'obbligo segnali di divieto la precedenza un stop un controsenso niente loro non guardano niente dice io sono monopattinista quindi pin mia non vali nenti io volevo informare cari signori con i mezzi elettrici con certo che anche per voi valgono le cose perché oltretutto non vi sentiamo per chi non c'è nessun rumore di accensione di accelerazione niente non sentiamo niente non vi vediamo e quindi rischiate seriamente che vi spezzano una gamba che vi buttano sotto compreso io scelto ma no volontariamente ci mancherebbe perché io vi amo sono innamorato perché voi già pensate all'ambiente però rischiate perché non vi sento sogno un poco come a borriello che ha scelto un poco vabbè comunque scelto vabbè tra poco col conte quello che ha combinato ancora lì che è sempre per il regalo di mia cugina scusate lo sfogo ma spero che qualche monopattinista mi ascolti e da oggi comincia a rispettare i segnali che regalano il codice da sciata a dopo